Ciao a tutti, vi do il benvenuto nel secondo episodio di Elettricista Fai da Te. Oggi parliamo del deviatore. Deviatore. Lo dice la parola stessa. A cosa serve il deviatore? Serve per deviare. Anche lui, come il fratello interruttore, è un dispositivo elettrico solitamente usato per accendere e spegnere le luci. In questo caso, per avere l'accensione da due punti in una stanza, bisognerà averne due. Allora, partiamo con lo schemino. Abbiamo, come solito, la nostra bella fase e abbiamo il nostro neutro che servirà per andare alla lampadina. La lampadina la disegniamo qui, che mi piace, questo angolino. Allora, come è fatto l'interruttore? Scusate, il deviatore rispetto all'interruttore. È, come detto, un dispositivo atto a deviare. Quindi ha tre morsetti. Ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua. Vedete, ce ne sono uno, due e una tre. Quindi, per accendere una luce ce ne vogliono due, per avere la possibilità di due punti di comando, altrimenti con l'interruttore non si potrebbe. Allora, facciamo lo stesso disegnetto di qua. Uno, due e una tre. E facciamo che sia posizionato in questo lato. Poi ci vogliono due fili, uno di qua e uno di qua, per collegare due deviatori. E il terzo polo andrà poi alla lampadina. Allora, vediamo come funziona il passaggio della corrente. In questo momento, abbiamo sempre nella nostra linea la tensione che scorre. Cosa succede? Trovando questo contatto chiuso, lei passerà attraverso questo filo e arriverà qua. Non avendo questo contatto chiuso, va bensì aperto, la lampadina risulterà spenta. Allora, come detto prima, si può comandare da due punti. Quindi, se noi azionassimo questo, facciamo che questo è il 2 e questo è l'1, azionassimo il secondo deviatore, cosa succede? Cambierà di stato. Cambiando di stato, permette alla tensione di andare nel filo fin quando si accenderà la nostra bellissima lampadina. Cosa succede poi? Se noi vogliamo spegnerlo da un punto o dall'altro, reazionando il punto 2 si sposterà in questo lato e la lampadina si spegnerà. Ma lo stesso anche con l'1. Se li lasciamo in questo stato, la lampadina è accesa. Ma se noi l'1 lo azionassimo, cosa succede? Cambierà di stato, andando in questa posizione, andrà qua, andrà qua e qui rimarrà aperto. Quindi la lampadina sarà spenta. Quindi questo è il principio di funzionamento del deviatore. Dopo vedremo come sostituirlo. Ciao, buona visione. Sigla! Allora, come detto, prima di effettuare ogni operazione, mi raccomando, se avete la possibilità come me di avere il contattore in casa, fate questa operazione. Ok, così è spento. Tutto quello che è collegato sotto non funzionerà più. Se non avete questa possibilità e avete un quadro elettrico, apritelo e prendete e tirate giù. Tutti, tutti, tutti gli interruttori che vedete. Qualsiasi. Tutti. Ognuno. Questi sono relai, quindi niente. Eccoci qua. Dopo questa operazione, metteteci le mani tranquillissimamente. Mi raccomando, sempre attenzione. Ciao a tutti! Allora, qui vediamo che è una camera da letto. In questo caso abbiamo il primo, che è un deviatore, e il secondo, che è un pulsante per la luce del corridoio. Vediamo come cambiare, allora, il deviatore. Faccia vite. La placchetta. Andiamo a smontare, vediamo cosa c'è. Allora, vediamo. Questo è il deviatore che ha i tre fili. Uno, l'arancione, che è il ritorno alla lampada. E due grigi. E di qui c'è il pulsante, che abbiamo la fase, con il grigio che è il ritorno che andrà al relais. Allora, smontiamo il deviatore. Ve lo ricordo nuovamente, fatevi una foto, così dopo non potete sbagliare. Fatela anche più di qualcuno, in varie angolazioni, e poi iniziate a scollegare i fili. Uno, due. E una, tre. Uno, due, e una, tre. Ripettiniamo un pochino. Eccoci qua. Lo togliamo, poi ci sono vari supporti, quindi qui basta fargli un po' di leva nel gancetto. Eccolo qua il nostro deviatore con... Ora andiamo a prendere quello nuovo. Lo mettiamo, vediamo se si può zoomare un pochino. vedete che c'è scritto uno, di qui niente, e di là c'è L, che sarebbe la fase o il ritorno alla lampadina. Lo rimettiamo come l'abbiamo smontato. Inseriamo i fili. Maledetto zoom. E poi chiudiamo tutto. Allora, il primo lo mettiamo lì. Chiudiamo. Il secondo lo mettiamo lì. Scusate. Chiudiamo. E l'ultimo lo mettiamo lì. E chiudiamo anche qui. Il morsetto saremo bene. sempre come ho detto nella parte destra uno, due e anche tre perché quando la vite in senso orario stringe la piastrina gli garantisce più tenuta. Ok. Ora chiudiamo tutto. Accomodiamo i fili dentro e seriamo tutto. ok. Placchettina. Se avete queste guardate che il nome sia corretto. La sensibilisce. Pugnito di qua. Di qua. Controlliamo. Ok. Ok. Ottimo. E ricordatevi adesso tirate su la corrente tramite il contattore e fate una bella verifica che funzioni tutto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.